ELEZIONI ANTICIPATE ELEZIONI ANTICIPATE ELEZIONI ANTICIPATE E intanto, nonostante le prime smentite, prende corpo una possibile candidatura del presidente Vito Bardi nel servizio di Celestino Benedetto, la simulazione elettorale di Utrend e Istituto Cattaneo. Vediamolo. Dopo che la maggioranza di unità nazionale si è dissolta, le varie forze politiche che hanno davanti a loro una campagna elettorale brevissima, stanno facendo i conti con gli scenari possibili. Cosa succederà alle elezioni del 25 settembre con il Rosatellum? Applicato tra l'altro la riduzione del numero dei parlamentari è la domanda alla quale Utrend ha cercato di rispondere, con una simulazione elettorale dei tre scenari, sulla base delle percentuali dei partiti dell'ultima supermedia dei sondaggi. La certezza è che si voterà con la legge elettorale, che è un mix di maggioritario e proporzionale, ma soprattutto sarà la prima volta di un Parlamento ridotto nei numeri. La legge elettorale prevede i collegi uninominali in cui vince il candidato che ottiene più voti, metodo maggioritario per un terzo e liste proporzionali per il restante. Rende cioè indispensabile coalizzarsi se si vogliono vincere i seggi dell'uninominale. La Basilicata, una delle cinque regioni in cui ci sarà un unico grande collegio uninominale, eleggerà in tutto sette parlamentari, tre senatori di cui uno all'uninominale e quattro deputati di cui tre con il proporzionale. Con una legge elettorale che premia le alleanze dunque e con il centrodestra che ha già pronta la sua, c'è uno scenario che anche in Basilicata premierebbe il cartello che fa capo a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il netto vantaggio del centrodestra capitalizzerebbe cioè l'assenza di alleanza tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Le aspettative di un sostanziale equilibrio tra i due poli si basano nell'ipotesi di alleanze tra i progressisti. Ma se il vantaggio sarebbe lieve con il PD alleato ai 5 Stelle ma senza i centristi, il fronte progressista sarebbe in medio vantaggio nell'ipotesi difficile di campo largo del centrosinistra. E intanto si inizia a parlare di possibili candidati. Il trasloco possibile del presidente Bardi a Roma è già da tempo oggetto di scenari politici, nonostante le smentite di rito. Mi pare surreale ogni ragionamento sulle candidature, ha scritto in un tweet, palesando però anche il suo pensiero rispetto alla caduta di Draghi e agli scenari per la Basilicata. Ritengo che in questo momento le regioni facciano ancora di più, debbano essere un punto di riferimento per i cittadini. Non credo che ci saranno ripercussioni a livello regionale, si farà la campagna elettorale, però noi dobbiamo continuare a essere convinti che nell'ambito delle regioni dobbiamo essere uniti, coesi per portare avanti quei programmi che c'eravamo prefissi, soprattutto senza farci sconvolgere da questo momento storico. Voltiamo pagina, non si arresta l'emergenza, incendi in Basilicata. Le situazioni più critiche a Pomarico e Pisticci, dove sono in corso lanci aerei da parti di Canaderra. Brucia da 36 ore la collina di Pisticci, in cui le fiamme si sono ridestate dopo la bonifica della notte precedente. Il fronte adesso è sulla zona dell'ex mattatoio, due le squadre intervenute per evitare che l'incendio arrivato fin sotto la Basentana possa oltrepassare il canale e arrivare al centro abitato. In corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire alle cause del rogo. Si teme la matrice colposa. A Pomarico sono andati in fumo 20 ettare di patrimonio boschivo in località San Lorenzo. Il rogo è divampato. Ieri pomeriggio, sedato nella notte, ha ripreso a bruciare per colpa delle elevate temperature di oggi e del vento. Nella nostra regione dal mese scorso sono stati 40 gli incendi boschivi più importanti, 450 invece gli interventi di spegnimento complessivi. E cambiamo argomento e passiamo alle vaccinazioni anti-covid, numeri in crescita nell'ultima settimana, effetto dell'esplosione dei contagi delle scorse settimane. E così molti hanno deciso di recarsi agli hub oltre 3.000 le nuove somministrazioni, ma c'è ancora molta strada da fare per colmare il gap rispetto al dato sulla copertura vaccinale e registrato a livello nazionale sulle quarte dosi. Sabella D'Andrea. L'esplosione dei contagi delle settimane precedenti ha fatto da detonatore e così molti hanno deciso di completare il ciclo primario o per chi lo avesse già chiuso di fare anche il secondo booster. Come riportato dal report del sabato della Task Force regionale, sono 3.295 le vaccinazioni effettuate nella settimana che va dal 16 al 22 luglio scorsi, con 1.000 inoculazioni in più rispetto alla settimana precedente, quando il totale si è fermato a 2.172. Cresce anche il numero delle quarte dosi, passato dalle 9.761 dei sette giorni precedenti agli attuali 12.609, con un incremento di 2.848 nuove inoculazioni, un passo in avanti significativo. I lucani attualmente coperti con quarta dose relativamente alla popolazione di riferimento sono il 2.3%, il 65% ha ricevuto la terza dose, il 79% la seconda e l'84% solo la prima. Numeri in crescita, ma che non bastano a colmare lo scarto rispetto alla copertura vaccinale ottenuta a livello nazionale e la conferma è arrivata dal monitoraggio Gimbe del giovedì. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose relativo alle persone immunocompromesse è del 19,8%, contro la media italiana al 58,4%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per over 80 ospiti RSA e fragili, fascia 60-79, è del 4,1%, mentre la media Italia è all'8,3%. In riferimento al resto della popolazione, il confronto appare più confortante. La popolazione fra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 45%, media Italia 35%, a cui aggiungere un ulteriore 4,4%, media Italia 3,3% solo con prima dose. E intanto sul fronte epidemiologico, in attesa del bollettino di oggi che come sempre sarà diffuso dopo le 16 il tasso di positività continua a scendere attestandosi al 26% su 2.500. 17 tamponi processati, sono 674 le positività riscontrate nel precedente report tra i Lucani, 421 nel Potentino e 253 nel Materano, ma purtroppo c'è un nuovo decesso a perdere la vita un 81enne di Ferrandina a capitolo ricoveri. Anche qui la curva in discesa con 102 ospedalizzazioni, 43 al San Carlo e 59 al Madonna delle Grazie. Le persone guarite sono 667, a cui aggiungere 280 unità, frutto di un precedente riconteggio per un totale di 947 guarigioni. I Lucani attualmente alle prese con il Covid sono 15.465. La cronaca ai carabinieri di Policoro hanno arrestato i presunti responsabili della rapina del 31 dicembre scorso in un supermercato a Scanzano Ionico, ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP sono finiti un trentenne e un 42enne, entrambi di Policoro e già noti alle forze dell'ordine, nei cui confronti sono stati ipotizzati i reati di rapina in concorso e porto illegale di armi. In particolare il primo è stato rintracciato a Montecatini Terme, il secondo è stato bloccato nella cittadina di Policoro con il volto travisato da mascherina chirurgica dopo aver fatto eruzione all'interno del supermercato Spesidi via Papa Giovanni XXIII nella cittadina Ionica. Uno dei due rapinatori si fece consegnare l'incasso della giornata a 1.200 euro, mentre il complice lo attendeva all'esterno a bordo di uno scooter pronto alla fuga. Sassi di Matera sempre più spopolati. Nel 2013 i residenti erano 1.624, ora sono solo 1.285, persi ben 339 abitanti. La gran parte sono giovani. Vito Sacco. Meno abitanti, più vecchi ed economicamente più deboli. I rioni Sassi continuano a perdere popolazione e sempre più giovani vanno via. I dati parlano chiaro e sono allarmanti. Nel 2013 i residenti erano 1.624, ora sono solo 1.285. Una perdita secca di 339 abitanti, con un andamento negativo che sta continuando nel 2022, anno ancora in corso e cui esiti anagrafici completi saranno disponibili all'inizio del 2023. Nel 2013 nei rioni Sassi risiedevano 323 persone tra 0 e 19 anni. Ma nel 2021 questa fascia d'età è scesa a quota 195. È stato inoltre calcolato che l'indice di vecchiaia nel frattempo è aumentato. Di pari passo, medesimo andamento ha fatto registrare l'indice di dipendenza, ovvero la percentuale di chi non lavora. Dati che evocano antichi fantasmi. Ma il decremento demografico attuale non è meno grave, per la ragione che l'intera comunità, con la legge speciale dello Stato numero 771, approvata nel 1986 per il recupero e la rivitalizzazione dei Sassi, ha scommesso soprattutto sulle proprie forze. Ha puntato le migliori carte su un patrimonio unico, tutelato dall'UNESCO, la cui condivisione incarna, in una realtà priva di ferrovie degne di questo nome, la vera grande locomotiva della città. Per Pasquale Doria, di Matera Civica, bisognerebbe evitare con tutte le forze che questo motore non finisca per deragliare. Occorrono interventi mirati, ma lo staff di tecnici comunali è ridotto ai minimi termini. È il caso dell'ufficio Sassi. Negli anni è lentamente precipitato da 17 a 3 unità, con l'aggravante prosegue Doria, che da ottobre si ridurrà a due soli geometri impegnati su questo immenso fronte, segnato da una millenaria eredità da non disperdere e preservare. Ma senza soldati, e l'amara conclusione di Doria, non si scorge all'orizzonte quale civile battaglia possa essere mai affrontata. La cronaca sindacale Universo Salute passi in avanti sulla vertenza ha revocato il presidio dei lavoratori in programma per lunedì prossimo, come disposto dai sindacati. A seguito dell'esito positivo dell'incontro tra regioni e vertici aziendali e gli stessi sindacati, il tavolo era stato convocato per discutere in merito all'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale per le case di cura, sottoscritto nel 2021 e ancora non applicato. Universo Salute ha espresso la volontà di applicarlo una volta che la regione garantirà la copertura del 50% dei costi degli incrementi contrattuali. Viale Verrastro a sua volta si è impegnata a garantire tale copertura autorizzando l'azienda ad incrementare il budget. Prendiamo atto, evidenzano i sindacati, che Universo Salute finalmente riconosce i suoi dipendenti. Il grande impegno messo in campo soprattutto nella gestione dell'emergenza Covid. I segretari regionali inoltre hanno chiesto di accelerare in merito alla classificazione delle strutture sanitarie e all'adeguamento delle tariffe ferme al 2009. Ancora cronaca sindacale, passiamo all'avvertenza dei lavoratori ex giuzio ambiente in relazione allo sciopero proclamato da FIM e WILM e dopo le interlocuzioni avute con la regione in vista dell'incontro programmato per il prossimo lunedì mattina è stato revocato il presidio dei lavoratori in programma proprio per lunedì 25 luglio. Futuro ambiente, fanno sapere, i sindacati ha comunicato l'avvio della procedura di mobilità e dunque il licenziamento del personale su comunicazione del commissario liquidatore dell'ASI Giuseppe Fiengo, prevista l'interruzione delle attività dal 1 agosto in contrasto, evidenziano FIM e WILM, agli impegni assunti nei diversi tavoli che avrebbero dovuto prevedere il passaggio dei lavoratori ad Apibas pertanto le organizzazioni sindacali dopo il tavolo di lunedì prossimo valuteranno il da farsi. Ed ora parliamo del laboratorio dei talenti, un progetto messo in campo dall'Istituto comprensivo Milani di Potenza dedicato allo sviluppo sostenibile secondo gli obiettivi dell'agenda 2030. Donato Carbonella Lo sviluppo sostenibile visto e immaginato con gli occhi di chi, oggi giovanissimo, sarà protagonista del futuro un laboratorio didattico per mettere in luce le potenzialità degli studenti e delle studentesse i loro talenti, le loro conoscenze in ambito digitale, seguendo la propria fantasia. Questi in breve gli obiettivi del laboratorio dei talenti, messo in campo dall'Istituto comprensivo Milani di Via Tirreno a Potenza e che ha visto coinvolti gli alunni delle prime due classi della scuola secondaria di primo grado durante l'anno scolastico da poco concluso. Gli studenti si sono cimentati nella creazione di brevi cortometraggi, attraverso cui, seguendo una storia da loro immaginata, hanno messo in luce quelli che sono gli obiettivi dell'agenda 2030 in tema di sviluppo sostenibile. Rispetto per l'ambiente, raccolta differenziata, riutilizzo dei materiali, risparmio energetico sono stati alcuni temi affrontati nei lavori presentati. Ma come si è sviluppato il progetto? Nasce come principio sull'ambiente, quindi sulla salvaguardia dell'ambiente, l'agenda 2030, quindi colloca tutto il loro percorso su questo argomento. E poi hanno lavorato con il digitale e hanno fatto anche un kit spendibile in tutte le scuole che noi daremo a tutte le scuole che vogliono, che può essere spendibile per i loro alunni. Talento e capacità sono emerse dagli studenti in modo diretto, senza la richiesta di conoscenze tipicamente scolastiche. Il bello è stato che non dovendo esprimersi con competenze e conoscenze di italiano, matematica, lingue, ma che dovendo mettere invece in campo proprio il talento, abbiamo avuto delle sorprese bellissime. Ci sono dei lavori straordinari fatti con una competenza che è difficile trovare nei bambini di prima e seconda media. Abbiamo realizzato degli spot, abbiamo realizzato un bel po' di pubblicità che andrà in onda tra poco perché i bambini, i talenti vanno premiati. Il talento non è il talento della conoscenza, il talento è quello che si mette in campo quando gli si dà una possibilità che sia diversa da quella solita e che viene messo in luce. E questo è stato questo progetto, mettere in luce il talento dei nostri alunni. Adesso c'è lo sport con i mondiali di scherma, la potentina Francesca Palumbo, campionessa del mondo e mondiali in Egitto. Per lei medaglia d'oro alla prova del fioretto femminile a squadra insieme ad Arianna Enrico, Alice Volpi e Martina. Favaretto, le azzurri hanno sconfitto gli Stati Uniti, dominando la sfida con il punteggio di 45 a 27. Successo importante che interrompe un digiuno durato anni per la nazionale. Per la Palumbo si tratta di un'altra soddisfazione dopo il titolo europeo a squadre conquistato un mese fa in Turchia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dal Giappone, che ha battuto l'Ungheria per 45 a 30. Il calcio di Serie C si chiude oggi la prima settimana di ritiro del Potenza Rifreddo nel pomeriggio. È in programma un amichevole tutta in famiglia che potrete seguire in diretta sulla nuova TV. Per tutti i dettagli sentiamo Donato Valvano. Si conclude oggi la prima settimana di ritiro in quel di rifreddo per il Potenza. Sette giorni nei quali Mister Siviglia e il suo staff hanno cominciato a gettare le basi della squadra che tra poco meno di un mese farà il suo esordio ufficiale in Coppa Italia. A chiudere la prima settimana di lavoro, oggi pomeriggio alle 18, ci sarà una sgambata tutta in famiglia sul campo del Cavaliere Grand Relais. Una sorta di prima prova generale per Mister Siviglia che potrà valutare il grado di apprendimento dei suoi concetti e i principi tattici da parte dei suoi ragazzi. La partitella si svilupperà su due tempi da 30 minuti ciascuno, nel corso dei quali il tecnico mescolerà le carte e farà qualche esperimento, come spesso si usa fare all'inizio di ogni ritiro precampionato. Sarà possibile vedere in diretta esclusiva la prima partitella in famiglia stagionale del Potenza sulla nuova TV al canale 82 del Digitale Terrestre o live streaming all'indirizzo www.lanuova.net. Il match verrà preceduto alle 17 da uno speciale sul ritiro dei Rossoblu a Rifreddo. Dalle 17.30 ci sarà il collegamento in diretta dal campo del Cavaliere Grand Relais. Prevista una replica sempre sulla nuova TV, canale 82 del Digitale Terrestre e in streaming all'indirizzo www.lanuova.net questa sera alle 21.30. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.